Questa è particolare perché quello che vediamo, supponiamo che sia una specie di focaccia sacrificale, un'offerta, con sopra forse un condimento delle spezie, un tipo di condimento, ma soprattutto anche melograni, datteri, altri cibi davanti forse delle noci, una ghirlanda di corbezzoli, dunque un'immagine che ovviamente l'osservatore moderno fa subito tornare in mente una pizza, soprattutto in terra napoletana, ovviamente non è così, però potrebbe essere un lontano antenato di questo cibo.